Ahem. Mettiamo le cose in chiaro. Non sono Marco Bresciani, né tantomeno il compianto doppiatore Gilbert Gottfried. Voglio solo omaggiarlo con questo video di Jabatoons. Link al video originale in descrizione. Un tizio qualunque entra in un bar! John Rivers lavora al bancone! Il tizio guarda la lavagnetta sul bancone e c'è scritto Panino al formaggio, un dollaro e cinquanta! Lavoretti di mano, dieci dollari! Il tizio chiede a John Rivers, sei tu che fai i lavoretti di mano? John dice, certo che sì! E il tizio risponde, beh allora lavati le mani! Troia! Voglio un panino al formaggio! Buonanotte!